ciao ragazzi buonasera e benvenuti in questo nuovo video sul canale cobra scacchi e passione ciao a tutti oggi dobbiamo riprendere a scalare con i punti non l'abbiamo mai accantonato dobbiamo salire il problema è come al solito è che siamo scesi parecchio quindi ci dobbiamo riprendere quello che è nostro come sempre detto questo ritorniamo a giocare sempre una dieci minuti che ci dà il tempo di pensare anche se poi le blitz hanno il loro perché hanno il loro perché quindi anche quelle le porteremo fra poco comunque facciamo una rapid come va va come sempre via giochiamo a dieci minuti nel bianco come vedete sto a 1550 siamo scesi tantissimo tocca riprenderli quindi quattro cavalli il nostro avversario ci gioca la russa ma io rientro nella quattro cavalli perché amo la quattro cavalli più della russa e quindi iniziamo così una quattro cavalli in realtà eccola mollo è rientrato nella quattro cavalli su questa potrei decidere che cosa fare così si rientra nella quattro cavalli scozzese con d4 mentre con a3 farei direttamente la variante gusberg che mi piace parecchio perché poco conosciuta facciamola gusberg via questo evita il fastidioso alfiere b4 a3 quindi andiamo avanti con la situazione e vediamo che farà il nostro avversario se spinge in c5 alfiere c5 come molti fanno arriva cavallo per e5 cavallo per e5 e poi la successiva forchetta vediamo che cosa fa il nostro avversario drunk master ok decide per una posizione tipo con e6 a questo punto noi spingiamo d4 spacchiamo il centro e come va va mi piace la mia posizione in questo momento non è male anche se abbiamo fatto poche mosse 5 ho sviluppato i cavalli ho preso il centro e devo sviluppare gli alfieri ovviamente nel suo i principi degli scacchi cava blanca suggerisce al principiante di sviluppare sempre i cavalli e dopo gli alfieri perché così i cavalli potrebbero coprire gli alfieri possono coprire gli alfieri detto questo ragazzi io ho sempre seguito questo principio quando devo sviluppare in apertura sviluppo diciamo quasi sempre prima i cavalli ci faccio molta attenzione anche se poi ci stanno tante aperture in cui si apre prima d'alfiere vedi l'apertura d'alfiere con alfiere c e4 alfiere c4 che è molto fastidiosa oppure la tromposchi con d4 alfiere g5 eccetera però a noi seguiamo i dettami di cava blanca per cui giochiamo sviluppando i cavalli per primi adesso sviluppiamo l'alfiere in g5 non è coperto dal cavallo come abbiamo detto prima però la mossa comunque merita questo è un errore tattico perché prende prende e poi c'è il ritornino del cavallo anche su prende poi c'è il ritornino del cavallo quindi è un errore tattico cavallo d5 se metto donna di 2 arriva cavallo per e4 minacciando questo alfiere quindi direi di spingere comunque f4 coprendo il pezzo che è scoperto e prendendo un tempo sul cavallo e vediamo ho il re al centro non ho sviluppato l'altro alfiere quindi devo sbrigarmi con lo sviluppo se sposta questo cavallo alfiere c4 potrebbe essere un opzione vediamo il nostro avversario comunque è abbastanza ragione abbastanza sulle mosse può essere un bene o male o male perché comunque se ragiona vede le minacce un bene perché magari si può ritrovare in un finale con una posizione complessa e poco tempo vediamo allora alfiere c4 a puntare f7 l'immagino farà rocco io volevo arroccare lungo ma anche la rocco corto con f4 spinta non è male questa perché che cosa mi sono perso qui cavallo per che cosa arriva qualcosa di io lo prendo vediamo se avversario sacrifica io non capisco dove può essere il vantaggio del sacrificio forse con un alfiere così a no non ho capito il sacrificio del nostro avversario però io arrocco corto a questo punto c'è un pedone isolato ma in difesa dal cavallo questo il cavallo qui mi piaceva perché eventualmente posso portarli in f5 se mi cambia l'alfiere sul cavallo sono contento ok perché tolgo il pedone isolato l'obiettivo è puntare di sega una sua debolezza quindi non capisco il sacrificio perché l'ha fatto però ci sta può essere che ha visto qualcosa che a meno risulta non lo so io doppierei al centro eventualmente così questo è un pedone nel fianco perché non può spingere che prendo in passano ma addirittura così puntiamo e 6 come lo difende 6 adesso non lo difende infatti così tre attaccanti due difensori quindi l'ho preso ragazzi per chi ha iniziato a giocare da poco io lo dico sempre questa questa è buona però questa è buona perché se prendono alfiere lui prende la donna prendo però poi io riprendo se prende la donna subito se prende l'alfiere io gli prendo la torre eventualmente quindi non è buona questa faccio così prendo il pezzo lui prende alfiere non mi va di chiuderlo questa questa prima di spostare l'alfiere mi deve prendere col cavallo e prendo un tempo se non prende prende la donna se sposta semplicemente la donna ok così prendo un tempo su sulla torre c'è un pezzo pieno e se lo teniamo stretto pure vediamo perché vabbè inchioda l'alfiere però così dovrei comunque riuscire a schiodarlo e vediamo vediamo nostro avversario ci pensa a me la quattro cavalli piace ragazzi perché è un gioco solido però è poco studiata da dalle persone in generale cioè una delle aperture che è sottovalutata in più non lo so ok si mette con la donna a fermare io potrei fare questa eventualmente se ci cambia i pezzi siamo in vantaggio va bene non gli cedo la colonna ragazzi perché cambiare adesso a cambiare io cambio gli cedi il controllo della colonna quando controlli una colonna aperta con una torre è molto forte quindi bisogna sempre stare in campana usare i principi degli scacchi in questo caso cercare di limitare il contro gioco dell'avversario e non dargli possibilità se cambia un pezzo controllo io la colonna se cambia lui la torre riprendo e poi controllo io la colonna quindi non sta posizione non è ancora risolta però però ha delle insidie tutti i pedoni su scuro così in modo che l'alfiere campo chiaro lavora bene potrei pure andare così a cercare di fare questa però voglio tenerlo qui perché la donna deve essere allora la donna è il peggior bloccatore di un pedone però in questo caso svolge il suo lavoro bene detto questo questo è protetto però non mi piace proteggere un pezzo solo con un pezzo potrei potrei proteggerlo di nuovo con torre 1 con torre 1 oppure andare con alfiere 2 torre 1 alfiere 2 questa mi piace che sta su colonna libera quindi non la sposto questa mi piace che controlla la donna però ti amo protegge la donna ma diamo manforte al nostro alfiere lui c'è i pezzi bloccati c'è una mazzurra c'è una maggioranza da sta parte che è bloccata questa maggioranza che non va ok adesso non lo posso prendere lo posso prendere e in passando con scacco c'è scacco torre prende donna prende se su torre prende questa è piena torre secca no scacco è piena torre secca questa diciamo che l'abbiamo detto che il pedone era come in chiodo nella posizione dell'avversario quel pedone era troppo forte però ancora non è risolta c'è una torre ora dobbiamo pensare a chiudere in una gabbia quindi dopo che va così io spingo spingo h4 in modo che gli tolgo anche questa via di fuga e poi porto le due torri qui bisogna sempre avere un piano ragazzi magari anche sbagliato un piano bisogna sempre averlo vabbè questo strategicamente adesso il re è chiuso e su questa già è matto in uno che cosa fa ok ha abbandonato il nostro avversario abbiamo vinto obiettivamente quindi ci sta ragazzi una vittoria dopo tante sconfitte siamo scesi siamo scesi tanto coi punti quindi via andiamo andiamo a vedere l'analisi quindi vediamo analisi e via così panoramica ho fatto 85 per cento contro 80 al nostro avversario non si è comportato malissimo secondo il motore va bene andiamo 4 cavalli siamo rientrati ragazzi 4 cavalli variante gunsberg molto velenosa così e questa non mi piace perché mi dà la possibilità di giocare sul centro raga di 4 prendo prendo questo questo così qui forse un'imprecisione trascurato un'occasione per scacciare un cavallo ah voleva spingere f4 prima il motore vabbè io vado avanti in questo modo ok errore grave qui la posizione è pari secondo il motore ma questa non l'ho capita io prendo rende arrocco corto è la migliore questa dice mossa ottima cambia cambia adesso c'ho un pedone ragazzi che ha un punteruolo come dicevamo nella posizione dell'avversario non può spingere così stalo prendo questa è la migliore e qui vedete ragazzi che ho fatto la migliore perché lui è costretto a riprendere altrimenti da un alfiere per un per un pezzi c'è qui qualsiasi altra mossa che non sia riprende l'alfiere tipo questa questa così e prendo la torre quindi comunque deve prendere questa è la migliore perché prendo un tempo sulla donna prende prendo schiodo l'alfiere il motore diceva spingere c4 no non mi piace aveva in pezzo un chiodato così si sposta ma il motore suggerisce all'avversario di cambiare io sarei stato bene nel cambio e qui l'errore dell'avversario nostro che ci mette ci fa vincere pam pam questa addirittura c'è una mossa più forte questa mossa permette un matto forzato c'era matto vabbè matto in 13 però ragazzi matto in 13 non mi chiamo aliekin dovete sapere ragazzi che aliekin era risaputo per la sua forza nel vedere le combinazioni forzate c'era chi diceva che riusciva a vedere anche 25 mosse avanti quindi noi non siamo aliekin i matti in 13 il matto questo matto in 13 non l'ho visto cioè cerco di andare per le cose più concrete quindi così questa e voglio andare a dare matto quindi ragazzi una partita vinta per oggi andiamo a tutto schermo raga è stato un piacere avervi qui sul mio canale ancora una volta per fare una partita insieme per cui se vi volete aiutare a portare questo tipo di contenuti di nuovo queste partite e giocare vi chiedo di mettere un follow al canale e perché no se vi è piaciuto il video mettere un mi piace quindi ragazzi io vi saluto e vi dico ciao ragazzi alla prossima